Si è costituita finalmente anche a Cubello un'associazione di protezione civile che farà il suo esordio nell'ambito della festa del carciofo a fine aprile e inizio maggio e che adesso ci viene illustrata dal presidente Graziano Menna. Buongiorno a tutti, è stata costituita questa nuova associazione di protezione civile chiamata Modavi Cubello il 28 marzo 2017. La scelta Modavi significa Movimento delle Associazioni di Volontoriato Italiano, è stata una scelta perché Modavi opera non solo sul territorio comunale, provinciale e regionale ma su tutta Italia. Quindi faremo esperienza in tutta Italia. Appunto ci sarà il nostro esordio per questa sagra del carciofo di Cubello dove andremo comunque a sostenere le istituzioni comunali e anche il comitato sagra per quanto riguarda la gestione della logistica, il traffico e tutto quello che ci sarà da fare per quanto riguarda il volontariato. Come fondatori avete 20 soci che contate però di aumentare presto? Come fondatori siamo adesso a 20 soci nella speranza che la popolazione si avvicini a questa nuova associazione, sempre nell'assoluta libertà e con il rispetto degli obblighi e dei doveri. Stiamo facendo anche un corso base che si tiene ogni giovedì a Pianella e finirà il 23 aprile con il rilascio dell'attestato per quanto riguarda il corso base di protezione civile.